Uno che ha vinto tutto, che è lì un'ora prima e fa riflettere Ti ritrovi dentro lo stadio per la prima volta, quando entri dentro lo stadio ti viene a pelle dopo Poi il direttore viene a dirmi che il giorno dopo sarei dovuto partire con loro E da lì ho detto ok ci siamo, è arrivato il momento Ragazzi bentornati, oggi la cantera si muove per l'Italia e arriva a Torino, siamo qui a Vinovo, siamo noi quattro, siete gasati? Tu sei gasatissimo o tu ancora di più? Sì gasatissimo E oggi siamo qua con i ragazzi della Juventus Next Gen Ragazzi una breve presentazione Io sono Nicolo Kudrig e gioco nella Juventus Next Gen e ho 20 anni Io sono Emanuele Pecorino, ho 21 anni e sono andato a Catania E sembrate due trentenni, invece sono più piccoli di me, questa cosa è preoccupante Però partiamo non dagli inizi ma dai vostri inizi alla Juventus È arrivata la chiamata, pronto sono a Juventus, sono interessato a lei Allora per me, io giocavo al Monaco in Francia e era verso fine stagione e andavo a scadenza con il Monaco e il mio procuratore mi chiama dopo un allenamento e mi dice che c'era la possibilità di tornare in Italia dopo tre anni che ero fuori Alla Juve e ovviamente ci ho pensato due volte e gli ho detto di sì Ma com'è andata la chiamata? Cioè dove eri? Ero in macchina che stavo tornando d'allenamento Da solo? A casa No, non ero da solo, non guidavo E praticamente il mio procuratore mi chiama e io ero in macchina con altri e gli ho detto di aspettare che arrivavo a casa Sono arrivato a casa e poi lì abbiamo parlato e mi ha detto di questa possibilità e poi da lì è andata a buon fine No, ero, ho chiamato subito mia madre e mio padre Erano molto felici e quindi è andata così Sei tornato in Italia? Sì, anche perché in quel periodo comunque volevo tornare in Italia, cioè mi mancava giocare di nuovo qua e allora è stata un'occasione che non ho potuto rifiutare Che differenze hai trovato tra il calcio estero e quello italiano? Allora, il calcio belga rispetto a quello italiano è molto più fisico, ma meno tattico e meno tecnico Lì si butta tutto sulla velocità, sul fisico, contrasti È un po' come il campionato inglese però con meno qualità Sì E mentre quello francese rispetto all'Italia è molto più tecnico È meno tattico, è molto più simile invece a quello spagnolo E si lavorava molto sul singolo, sugli uno contro uno, tecnica, era tutto così La prima punta era tutto venire incontro, uno o due col centrocampista E queste sono le differenze rispetto all'Italia Tu cosa preferisci? No, io preferisco più un calcio tecnico però neanche troppo C'è una via di mezzo E l'Italia comunque lo è, perché c'è sia fisicità, tattica e anche tecnica Vaiiamo Invece ero sul divano Ero tranquillo, ero col telefono Instagram, Facebook, TikTok, tutto E niente, ho letto una notizia che c'era dell'interessamento da parte della Juve su di me Cioè tu l'hai letto dal telefono? Cioè non lo sapevi ancora? Non lo sapevo Quindi io chiamo il mio procuratore e gli ho detto Aspetta un attimo, mi hai detto qualcosa e c'è qualcosa E mi fa guarda, fin quando non è 100 Cioè non andiamo a firmare, dobbiamo andare a firmare Non te lo volevo dire Cioè quando è una cosa certa E quindi io ho letto Cioè praticamente l'ho scoperto tramite il telefono Cioè è stato incredibile Ma è la cosa frequente? A me non è mai capitato Incredibile L'ho saputo Però è stato bello, è un'emozione bella E poi quando sei concretizzato l'affare, sei concluso? Sì, ero al settimo cielo Allora era vero Anche te è successo? Sì Hai provato Sì, due anni fa è successo Mi ha chiamato Marotta personalmente E dopo però ho detto Siccome volevo lasciare spazio ai ragazzi Grazie, gentilissimo Ho rifiutato l'offerta però C'era questa possibilità Una scena allora te la devo Una scena a me non te la devo Assolutamente Quando vuoi Basta chiamarmi Hai visto? Visto? È loro una carriera però la Juventus Tutto grazie a te Visto? Visto? Dopo non siamo uomini di cuore Io voglio farvi una domanda Dato no che io sono tifoso juventino E forse non riesco a entrare nell'ottica Del allenarsi con quei giocatori che vedo alla tele Ho visto anche fra parentesi in tournée Con la Juventus quest'estate Com'è allenarsi con quei calciatori Ipotizzo? Non so se avete avuto la fortuna di Ronaldo Io, io sì Ecco Com'è allenarsi Ipotizzo con Cristiano Ronaldo Con Pogba adesso che è tornato Che è un calciatore Di Maria Ci arrivavo dopo Scusi Di Maria Come allenarsi con loro? Volevo dire Ti dico una cosa Io ieri Abbiamo fatto rifinitura ed ero con loro Sono allenato con loro Anche se non è ormai la prima volta Che comunque In due anni sono andato spesso ad allenarmi con loro Ho fatto svariati allenamenti Ti racconto la mia cosa di ieri Che comunque mi giro Stiamo facendo le palle nattive Mi giro e guardo Dico Madonna mia Con chi mi sto allenando Ancora mi viene Quell'emozione di dire Hai la mia età Stasera li vedo in tv E mi sto allenando con loro E quindi Ti viene quelle emozioni di dire Che bello E invece Tornando un pochettino più Sempre prima squadra e stadio Come Se siete mai andati in panchina Avete avuto questa possibilità di andare O quantomeno sentire Il tifo Che sensazione vi dà Immaginare un giorno di essere lì Oppure appunto anche Se avete provato Sulla vostra pena Anche la convocazione Di andare in prima squadra E sentire lo stadio Io Per le mie esperienze Con la Juve Non ho avuto ancora questa possibilità E spero un giorno Arrivi anche per me E ne sarei grato Io per quello che posso dire Cioè Quando ero a Catania Per le emozioni che ho provato Quando ero a Catania Perché comunque In un settore giovanile E poi quando mi guardo la prima volta È stato bellissimo Perché comunque Ti ritrovi dentro lo stadio Per la prima volta Con tutti i tifosi Che incitano una squadra Cioè Quando entri dentro lo stadio Ti viene a pelle d'oca Non c'è niente da dire Io Invece Sul fatto della prima squadra Di allenarsi con loro Mi ha lasciato Un segno importante Quando mi sono allenato con Ronaldo L'ultima settimana Prima che andasse via E vi racconto Un aneddoto Che Mi ha fatto pensare Che praticamente C'era il ritrovo In palestra Alle 10 Io era la prima volta In assoluto Che andavo ad allenarmi In prima squadra Perché Emozio Sì Perché avevo firmato Da un mese qualcosa Quindi Era la prima volta E Tu da giovane Quando arrivi Cerchi sempre di arrivare Un po' prima Per Ovviamente Per non far brutte figure Diciamo E Allora Io Ritrovo in palestra Alle 10 Arrivo a 9 e mezza 9 e 20 40 minuti prima Dove non c'era nessuno C'era il preparatore Che stava preparando tutto E io vado a salutarlo Lo saluto Poi Mi giro verso l'alto Perché in alto ci sono le ciclette Nella palestra Mi giro verso in alto E vedo Ronaldo Tutto sudato Che fa ciclette Sarà stato lì da La mentalità Che fa la differenza E allora Lì dici Uno che ha vinto tutto Che Ha 37 anni Esatto E lì Un'ora prima Fa riflettere Mentre Sulla convocazione E quando mi hanno convocato In tournée È stato È stata l'emozione Più grande Perché Uno non me l'aspettavo È arrivata di colpo È due È due È un'emozione unica Anche perché Siamo stati via 15 giorni In America E Praticamente Ero qua a Vinovo E il direttore viene a dirmi Che il giorno dopo Sarei dovuto partire con loro Così Senza allenare Di colpo E E lì Sul momento Ho scritto a mia madre E a mio padre Ma È stato È stato strano Ecco Ma bello Non avete raggiunto Ancora la convocazione In prima squadra Quindi la presenza All'Alliance Con la prima squadra Però la presenza All'Alliance L'avete fatta Il 2 marzo Avete giocato La finale di Coppa Italia Di Serie C L'andata Col Vicenza Una sconfitta Però Che emozione è stata A giocare Con quel tifo Perché comunque I tifosi ce n'erano Quel giorno È giocare in quello stadio È Lo senti È un'emozione Importante Perché comunque È lo stadio che vedi Ogni domenica In Serie A E comunque sai Che ci sono passati Tanti in quello stadio Che hanno giocato Tanti campioni E quindi calcare Quel terreno È È qualcosa di unico Cioè Ti rimane Ti rimane Per sempre È stata una sconfitta Ma comunque È È un privilegio Giocare in quello stadio Ed era anche La seconda volta Una volta anche In Juventus Mantua In campionato A me Cioè Fin quando non sono entrato Dentro lo stadio A guardare Che ho messo il piede Nell'erba Non mi ero reso conto Di quanto fosse Così maestoso Cioè Non ti rendi conto Da fuori Quanto sia grande Da dentro il campo Ti sembra una colonna Infinita Che ti avvolge E da lì Ho detto Ok ci siamo È arrivato il momento E quindi Però ancora c'è un po' L'amore in bocca Per quella partita Eh ti credo L'ho vista la partita È stato Visto sia andata Che ritorno È stato un peccato Perché secondo me Soprattutto il ritorno Il ritorno era Sì sì Se avesse fatto quel rigore Il secondo me Cambiava Sì Sono stati degli episodi Sono stati episodi Dopo L'andata Loro hanno fatto il 2-1 Dopo un minuto Abbiamo avuto l'occasione Abbiamo Preso la traversa Sui episodi Il ritorno Abbiamo sbagliato il rigore Ma Non è colpa di nessuno Sono andati così Sui episodi Che Nelle finali Gli episodi Sono fondamentali E voglio fare una domanda Sempre riguardo Pubblico Stadio Tu hai avuto la possibilità Di giocare appunto Quest'estate Nella tournée Quindi hai avuto Un maggior impatto Col pubblico Te ancora Ma spero Di vederti presto Allo stadio Grazie Volevo chiederti Lo senti il pubblico Nel senso Quando giochi È vera sta cosa Che ti crei una cappa E rimani solo Con te stesso Con tutti gli altri O lo senti Cioè tu mi hai detto Hai raccontato Prima Che c'era Quando hai giocato Contro il Real Madrid O il Barcellona 100.000 persone Più o meno Real Madrid Le senti Mentre giochi Allora Le altre due partite Abbiamo fatto Contro il Civas E l'altra Contro il Barcellona Lì Le senti Finché non entri in campo Poi quando entri in campo È una partita normale Perché tu sei concentrato Sulle tue cose Però Se devo dire la verità Con il Real Madrid Che c'erano 100.000 Tutti loro Lì Li ho sentiti E Ti fa effetto Perché È È una cosa talmente Surreale Che dici Non ti pare vero E quindi tu giochi Che senti tutto questo Boato Questo Tremare Poi i ritmi vanno A 3.000 È tutto velocissimo Io quello che voglio dire Cioè Mi ho giocato anche Contro il Mantua Dentro casa Coppettica Campionato Ci sono 30.000 persone Sono tantissime Se ci pensi E da dentro Comunque Non sembra che c'erano 30.000 persone Ma Non riuscivi a parlare Col tuo compagno Di squadra A un metro Perché Non Non sentivi niente Cioè Non si sente Dovevi gridare Per farti sentire Già Dalla partita In affanno Più devi gridare Quindi ti passava Anche la voglia È duro È duro Non ti veniva Di Il mister si sentiva O dovevate fatica No Zero Non senti nulla 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 Mi allegri Non si sente L'allenatore Quando urla Cerca di farvi capire Difficile Deve proprio urlare Esatto Forte Ma invece ragazzi Ci raccontate un po' Qual è la vostra routine In un giorno Di partita E in un giorno In un giorno di allenamento La settimana normale Vai vai Vado io Grazie per questo Bella Bell'assist No niente Io durante il giorno Comunque Ho preso casa qui Vicino al campo sportivo Proprio per restare Mentalizzato Sui allenamenti Perché il nostro È un lavoro Che Dobbiamo dare il massimo In tutto In tutti gli aspetti E niente Io mi sveglio la mattina Faccio colazione A che ora? In base a che ora Allenamento Di solito Alle 10 E all'allenamento Quindi appunto Sveglio alle 8 Sveglio alle 8 Sì Faccio una colazione Cosa mangi? La colazione Campione C'ho Tra me Del nutrizionista C'ho 60 grammi Di pane di segale Qualche fetta Di prosciutto E qualche Qualche noce Salata quindi La colazione Sì Sì Perché ti piace salata A me piace A me piace salata Poi cambia in base All'allenamento Anche la colazione Perché se arrivi Al giorno prima Della partita Cioè il giorno Della partita Mangi le uova Cioè io Cioè io C'ho così Dalla Dalla mia Nutrizionista Mangio le uova Il giorno Della partita Il giorno Prima della partita C'è il burro D'arachidi Cioè in base Ai giorni Cambia un po' D'alimentazione Ma siete tutti seguiti Così tanto Anche la Sì 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 Qui Questo è un club Che ti cura Nei minimi dettagli Quindi fai la tua colazione Sì Fai la tua colazione Mi vesto Mi cambio Mi lavo E prendo la macchina Prendo la macchina E vengo al campo Per le dieci Hai detto più o meno No Arrivo un po' prima 9 e mezza 9 e mezza Sono al campo Faccio le mie cose In palestra Faccio un po' di prevenzione Prevenzione di infortuni Poi In base a che ora Allenamento Si entra in campo Si allena Si mangia Anzi Prima Si va di nuovo in palestra Per Per scaricare un po' i muscoli Per fare degli esercizi Che ognuno ha di bisogno Per il proprio corpo E poi Si va a mangiare Tutti assieme Sì sì Tutti insieme Abbiamo anche questa fortuna Di avere il ristorante qui Si mangia bene Sì sì Si mangia bene È importante sapere Si si Tutto Tutto selezionato Alla perfezione Come dice il nutrizionista E niente Poi Esco da qui E vado Di solito Vado a fare la spesa Così Riesco a riposarmi Il pomeriggio Cosa mi ha dato vita a dire Intorno al calcio E al cibo La colazione Vado a fare la spesa Il camale Sì sì Cioè mi sbrigo un po' Un po' le cose E poi torno a casa Mi riposo un po' Gioco un po' la play C'ho un po' di hobby Cosa giochi alla play? FIFA e Call of Duty Tutte e due? Sì 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 Più code Un po' di più code Sì? Sì sì Se c'è più lo sparatutto A football manager invece non giocate? Eh ti dico io no Non ci gioco Sì mi sa che ti giochi a scuola Ma mi ha preso a football manager Ho appena iniziato Ce l'ho da un mesetto Guarda Ho iniziato a giocare un po' Dopo che ho giocato per tipo due ore Mi è crashato il computer E non ci ha salvato niente Quindi i giorni dopo Mi è passata un po' voglia di giocare Io ho provato quella gratis Dopo è scaduta la prova gratuita Non più giocare Un giocatore invece con cui vorreste giocare E il perché? Questa è una bella domanda Non vale dire mai essere Ronaldo Sì non i soliti Magari uno in particolare Io ce l'ho Vai 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 tu Ibra Ecco Volevo dire Uno di Ibra E se non ho Ibra Cambiamo Un altro Un altro Beh uno con cui Vabbè ma era un sogno irrealizzabile Era Totti ma Se ritira Per questioni anagrafiche anche Magari con il figlio Non è la stessa cosa Però 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 uno attuale Mi piacerebbe con Musica tensiva Con Neymar Bello Scarto Neymar alla Juve Neymar Neymar anche giusto per vederlo come gioca Da un metro Tu invece? Non Ibra Non Neymar Non Neymar E non Totti Prendiamo il pallone d'oro Benzema E questo Sì ragazzi Bellissimo È il mio giocatore preferito Bene Che attaccante Io ho detto Il nome più forte Degli usati Sì sì è unico E te c'è anche giocatore C'è tutto Tecnicamente Poi È uno che Che è molto mentalizzato al lavoro Lavora molto Mi piace proprio per questo motivo Lui è arrivato dov'è proprio perché È uno che Mentalmente Perché altrimenti Non diventi campione del mondo A Trent'anni In più Trent'anni E passa Ma Vado Molto molto Per il lungo Post carriera invece Avete già Un qualcosa Avete già pensato a un qualcosa Cosa vorreste fare Allenatore Oppure Non ci avete ancora pensato Una bella sdraio Tutto l'ombrellone Sarebbe Sarebbe da far così No però Secondo me ancora Siamo troppo giovani Per Per decidere Anche perché Comunque Penso che Tra qualche anno Iniziamo a far famiglia Poi Bisogna pensare Anche i figli Alla moglie Decidere poi tutti insieme Cosa fare Sì È ancora presto Però Se dovessi pensare Ha una cosa da fare Mi piacerebbe Il talent scout Un domani È bello È bello Sì Perché viaggi Guardi partite Quindi Che direttore è bello Mi piace Un allenatore Da cui vorreste essere allenati Un allenatore Anche magari Non so Ancelotti Se sto ipotizzando Magari Il guardiola Ok Aranda ha fatto Non so quanti gol 40 Io Klopp Klopp Secondo me Ti tira fuori il meglio Quindi Lui Mister Allegri Non sarà contento Di queste interviste No Beh Ho detto Allegri Ha detto Allegri Uno In futuro Sì Io ho intrapreso Quella La domanda La domanda al volo Da bambini invece Il giocatore Che vi ha fatto innamorare Del calcio Stavo tu Brava Ormai Io No Io Io Mi sono innamorato Del calcio Perché Io giravo sempre Con mio padre Perché mio padre Giocava a calcio In categorie più basse E quindi Giravo con mio padre Andavo a guardare Mio padre Cioè Guardavo tante partite Sempre Stavo sempre con lui Poi Ha smesso di giocare a calcio Allenava Andava a vedere I suoi allenamenti Tornava tardi E quindi Mi ha trasmesso Questa passione Il mio padre Cioè Devo Devo a lui Se sono qui Io invece Mi sono innamorato Del calcio In maniera particolare Praticamente Era il 2006 Avevo 4 anni E c'era il mondiale E io avevo Questo vizio Di mettermi il dito In bocca Da piccolo Per Totti No Così È un mio vizio Poi Comunque Eravamo a casa C'era il mondiale Guardavano le partite E io vedevo Totti Che segnava Anche con l'Australia Si metteva il dito in bocca E da lì Ho iniziato a guardarlo A imitarlo Poi sono cresciuto E chiedevo Dove giocava Così Giocava alla Roma E da lì Ho iniziato a seguirlo Ho iniziato a giocare a calcio È partita tutta così Hai capito te Guarda Papi Mi copia Quel signore L'intervisione E mi sono messo a piangere In finale Perché non ha tirato il rigore Ti giuro Era anche uscito Se non sbaglio Per quello Non ha tirato Ultimissimo Due aneddoti Pre partita che avete Io sono scaramantico Mamma mia Dai Ma non posso Io Non posso Sono scaramantico No no Sono troppo scaramantico Io ne ho solo uno Ne ho tantissimi Uno Ma tu sei la Natal Se fossi un tennista Saresti Natal Allora Sicuramente metto le stesse mutande Lavate ovviamente Sì Dalla partita Però lavate E se giochi male Lo stesso O le cambi Eh No In base Perché se gioco una male E poi riprendo Diciamo la partita Dopo a far bene Allora Me le tengo Però Se sto facendo male Continuo Allora poi devi cambiare Perché devi Devi rigenerare Ho capito Io ne ho solo uno Che Quando siamo in hotel Quando siamo in hotel Guardo sempre Dei video di Sai quei video skill Quelle cose lì su youtube Nei mask Veskis e gol Giocando a sinistra E io guardo Tutti quei video lì E quindi Tutti Tutti I classici video E quindi Quindi guardandolo Non è che dici Fai come lui Però Guardi Guardi un po' Cosa fa Le finte che fa Certo Ma aiuta Chiunque Cioè anche io Quando giocavo Non capita adesso Lei che ha preso il doppio passo Adesso ho capito Il doppio passo Guardavo i video di Buffon Perché faccio il portiere Guardavo anche io Per caricarmi Guardi i video Ok Adesso domani devo far Così Ma ognuno ha i propri diti E ognuno ha i propri diti Ci vuoi dire l'ultimo Dopo le mutande Vediamo cosa si può dire Anche io ne ho uno Per andare allo stadio Tipo Quando entro allo stadio Ci ho sempre Cioè ci sono tanti bagni Dove non vado Io vado sempre in un bagno Perché non deve cambiare Cioè faccio sempre le stesse cose Tutte le partite Ci sono occupato Ci sono occupato Ci sono occupato Aspetta Ci sono Ci sono Ci sono Ci sono Quattro bagni liberi Uno occupato Aspetto Sì Vabbè Ci sono Ognuno ha i propri diti 21 giocatori in campo Ne manca uno Dov'è L'22esimo Si è appena liberato il bagno Grazie mille ragazzi Grazie a voi Grazie a voi Amicissimi Ragazzi Spero vi sia piaciuta questa chiacchiera Vi invito a lasciare un mi piace Un commento A iscrivervi al canale Condividere il video Condividere il video E andate a vedere anche sugli altri social Perché sono usciti un sacco di contenuti Di questa giornata qui a Vinovo Un abbraccio Dalla cantera Grazie Ciao Ciao Ciao